Continuano i furti località Trentova ad essere il bersaglio dei malviventi, una giovane cittadina di Agropoli che nella giornata di ieri si era recata nella località Balneare per fare un bagno. Una marra scoperta al ritorno sulla spiaggia perché qualcuno l'aveva derubata della sua borsa contenente cellulare, portafoglio, chiavi dell'auto e altri oggetti personali. Non è la prima volta che episodi del genere vengono compiuti in pieno giorno indisturbatamente. Purtroppo il post lockdown sta dando i suoi frutti, i bifolchi travestiti da turisti sono arrivati in anticipo e più carichi che mai. Oggi la malcapitata sono stata io derubata in spiaggia, lo scrive su Facebook la persona che purtroppo ha subito il furto. Il pensiero di non poter fare neanche un bagno a casa continua, non lo tollero e mi ha tolto il sonno stanotte. Ma il mio post su Facebook non è per fare polemica, bensì per invitare tutti i cittadini a fare attenzione e a tenere gli occhi ben aperti, sottolinea. Altri episodi simili si sono verificati e continuano a verificarsi proprio in quella zona, anche a danno di diverse autovetture che spesso vengono scassinate per prelevare ciò che viene lasciato al suo interno. Si è trattato di un attimo, sottolinea la ragazza, e per di più c'era anche mia madre a distanza di un metro dalla borsa, ad indagare sulla vicenda i carabinieri della locale stazione che hanno sottolineato di aver ricevuto 10 denunce simili da inizio settimana. Il Consiglio delle Forze dell'Ordine è sempre lo stesso, quello di non lasciare nessun oggetto in macchina e di portare solo il necessario in spiaggia.